Ciao a tutti ragazzi, qui è Archevi Parla, sono passati tre giorni e abbiamo finalmente il nostro reveal trailer per quanto riguarda zombie? No. Allora, diciamo che la cosa è stata un pochino strana perché io già, dato che era uscita la scritta The Next Step arriverà il 28 di settembre, ero tipo, è difficile che l'ultimo step, o comunque il reveal, sia chiamato appunto Next Step, quindi mi aspettavo almeno un'altra giornata con alcune informazioni, alcuni piccoli easter egg, classici come sono stati fatti in precedenza, sia per campagna a multi, e specialmente in questi giorni per zombie. E così appunto è stato, i soliti codici numerici per i nostri youtuber e streamer con i sei terminali, che hanno poi risolto tutto quanto. Sono avuti circa 50 minuti, quasi un'ora, non era estremamente pessimo quello che stavano facendo, anche io ho circa capito quello che andava fatto, ma era un processo comunque molto lungo e dettagliato. Sono stati però ottenuti diversi siti di Poundstakespound con alcune informazioni abbastanza interessanti. La prima cosa che vediamo è questa immagine in cui un soldato tedesco e un soldato sovietico si stringono la mano per un accordo probabilmente di un progetto. Questo va a riallacciarsi in parte a quelli che in cui si parlava di Nakhderantoten, di machine, come mappa ampliata, un posto in cui ci sarebbero stati sia tedeschi sia russi per una base missilistica o una base con alcuni esperimenti. Molto probabilmente collegata agli zombie, o gli zombie andano a distruggere appunto questo luogo, dove si è formata questa specie di alleanza, dove hanno lavorato a diverse cose. Insieme a questo, un'altra registrazione molto simile a quella precedente, che era assieme alla lettera, infatti lo stesso personaggio femminile dà alcune informazioni aggiuntive e parla appunto di questi uomini che sono arrivati a una base e stanno sperimentando. Molto probabilmente sono sempre gli stessi uomini che in precedenza aveva citato riguardo questa sua amica, che doveva nascondersi e scappare. Ed è chiaramente collegato a quelle che sono le mappe zombie e quella che è la storia sottostante, per quanto riguarda questo capitolo di Black Ops Cold War, che ripeto potrebbe essere ancora storia etere o universo della storia etere, il cosiddetto multiverso, ma con personaggi completamente nuovi e distaccati. Già ho risposto a molti di voi che mi avevano chiesto, primis, ultimis e victis assolutamente non ci saranno. Già non l'anno affa confermato per quanto riguarda Rick Toffin, che non sarà presente nel gioco, e ricordiamo sempre le parole di Craig Houston che dissero, primis, ultimis e victis non ci saranno più. E poi quello che sarebbe, diciamo, il dramma, che era sia una buona notizia, sia una cattiva notizia, perché assieme appunto a queste immagini e questa registrazione, c'era un filmato di PostExpon che rimandava a un altro sito. Lo apriamo e, oh mio Dio, questo è un mini filmato di zombie che inizialmente sembrava un pochino più lungo, ma è di circa 5 secondi. E ragazzi, dopo il primissimo teaser che era invece circa 7, assieme al trailer del multigiocatore, averne quindi adesso un altro da 5 secondi che ci mostra il giusto, non è stato il massimo, ma sotto, finalmente, il 30 settembre alle 10 del mattino del Pacifico, quindi per noi le 19, sul canale YouTube di Call of Duty ci sarà il reveal di zombie. Finalmente ce l'abbiamo fatta, l'attesa è stata estenuante e frustrante ai massimi, ma abbiamo finalmente la data e l'orario preciso in cui vedremo molto probabilmente il reveal, o un trailer, o un gameplay, o io direi magari entrambi, sarebbe proprio il top. Volevo vagamente analizzare insieme a voi questo filmato, dove un paio di cose possono essere interessanti o si possono capire, ma appunto con 5 secondi non mi aspettavo di vedere informazioni gigantesche e non sicuramente un gameplay, perché 5 secondi di gameplay sarebbe stato comunque pochissimo e non così interessante. Guardando quindi questo piccolissimo teaser da 5 secondi, si possono capire un paio di cose che sono vagamente ricollegate a questa mappa, o secondo me questa dovrebbe essere la parte sotterranea per quanto riguarda di machine in un Nacderantoten ampliata sia all'esterno che anche all'interno, ma potrei chiaramente sbagliarmi perché potrebbe essere anche teoricamente l'altra mappa Firebase Z ambientata in Vietnam, ma vedendo chiaramente tedeschi e anche sovietici è molto più probabile che sia ricollegata a Nacderantoten, che bisogna vedere se poi la vogliono inserire ad esempio in Polonia ancora è stata citata di recente una città in cui era anche caduto un meteorite o comunque magari Germania, Unione Sovietica, qualcosina del genere. Vediamo questi soldati che sono molto simili ai due soldati che vediamo in precedenza di sfondo per quanto riguarda l'immagine precedente, che vengono completamente mangiati e distrutti da questi zombie che stanno probabilmente invadendo il territorio, la zona e chiaramente mangiano tutti quanti, zombificando tutti quanti. La cosa interessante è che questa, diciamo piccolissimo teaser, questa clip è in formato pellicolo ovvero sembra essere un filmato già pre-registrato o mostrato a qualcuno o secondo alcuni potrebbe essere anche soltanto la cutscene iniziale per presentare la mappa. E' anche ricordato il fatto che proprio il sito Ponst Expo da cui è stato ricavato c'era di sfondo appunto una pellicola con queste immagini precedenti, la registrazione in cassetta e appunto una pellicola aggiuntiva che potrebbe essere collegata appunto alla storia ovvero c'era questa zona molto interessante per sovietici e per tedeschi che è stata poi invasa completamente da zombie e in qualche modo noi che siamo magari gli americani o qualcosa del genere dobbiamo infiltrarci e recuperare alcune informazioni e comunque scappare vivi dal luogo con tutto quanto evitando gli zombie. Anche controllando il filmato frame per frame devo ammettere che non c'era nulla di così eclatante o incredibile da gridare al miracolo o qualche dettaglio appunto così interessante da poter essere tirato fuori nel dettaglio e analizzato nello specifico per cui teniamoci questo teaser per com'è è soltanto l'inizio ma molto presto tra circa meno di un giorno potremo finalmente vedere questo dannatissimo reveal per zombie ripeto spero sia sicuramente un trailer che sia per la mappa zombie la storia, i personaggi, qualcosina del gameplay non sarebbe affatto male o addirittura rappresentarsi al 100% una modalità zombie come fu fatto per Black Ops 4 per dire dove ci fornirono tantissime informazioni tutte assieme sarebbe comunque un passo gigantesco in avanti e un pugno alla community per dire sì ragazzi avete aspettato tantissimo è stata una sofferenza ma ecco tutte queste informazioni in via completamente ufficiale e confermate lì sarei molto contento e potrei perdonare Treyarch che negli ultimi giorni ci ha fatto rosicare non poco anche perché continuamente come al solito gli youtuber grossi dicevano sì sì questo è l'ultimo passaggio ho confermato zombie questo lunedì, questo venerdì e così via adesso la parola ufficiale di Activision ci conferma il rivela sta arrivando, c'è la data, c'è l'orario sappiamo anche dove vederlo Call of Duty YouTube concludiamo poi in bellezza con un'immagine o un mezzo filmato pubblicato da sia Treyarch sia Activision su Twitter e anche poi su Instagram nelle storie e anche in un post ed è quella che sarebbe la schermata gigantesca per Call of Duty Black Ops Cold War zombies quindi il soldato che vediamo anche nello sfondo nella copertina del gioco per metà zombificato la cosa interessante è che nella striscia diciamo di zombie che sembra un colpo, una manata vediamo la sigla Juggernaug Soda quindi riconfermo ancora una volta sta tornando il Jug e lo rivedremo e questo è sicuramente interessante la parte invece a sinistra vediamo falce e martello Unione Sovietica e in fondo anche un cappello e un simbolo che sinceramente non riesco a ricollegare a qualcosa che io possa conoscere ma generalmente comunque tutto il resto lo riconosciamo molto tranquillamente chiaramente anche le sezioni di soldato mezzo umano mezzo zombificato che è molto molto bello e proprio riguardo a questo zombie ho notato tantissimo i dettagli che vediamo sia in questa immagine ma sia anche nel teaser di prima facendo alcune ferme immagine in diversi frame gli zombie che vediamo sembrano essere appunto quasi horror come World War 2 completamente dilagnati, distrutti che vediamo i legamenti, i tendini è un dettaglio chiaramente molto interessante come non anche per dire quelle pustole gigantesche negli zombie del primissimo teaser può far capire che magari la grafica e generalmente il gioco è stato spinto molto molto avanti come detto gli altri volte in realtà il dettaglio degli zombie mi interessa generalmente poco anche se uno zombie si spappola e si distrugge generalmente a me interessa il gioco, il gameplay, le armi, la mappa, la storia, gli easter egg e tante altre cose ma in più anche magari l'occhio che vuole vedere uno zombie che si spappola al suolo e striscia in giro potrebbe essere carino l'ultima cosa interessante è che tutte quante queste news di zombie stanno arrivando in contemporanea con quella che è la season 6 per Warzone e per Call of Duty Modern Warfare penso che molto presto proprio durante questa season o alla sua conclusione vedremo i primissimi passaggi e i cambiamenti in avanti per quanto riguarda ricollegarsi a Black Ops Cold War e forse vedere questo dannatissimo zombie royale o comunque modalità playlist zombie su Warzone che da tanto tempo abbiamo sentito lickare con anche file audio e tanto altro secondo me il periodo può iniziare proprio stanotte che sto registrando sta partendo il preload per quanto riguarda la prossima season i soldi 20 e passa giga su tutte le piattaforme che è qualcosa di incredibile però state pronti perché secondo me qualche sorpresina a tema zombie potrebbe anche arrivare magari proprio assieme a questo reveal ancora una volta ragazzi abbiamo finalmente questa data precisa per quanto riguarda il reveal il 30 settembre alle 19 e le mie aspettative in questi giorni che c'erano soltanto istragante piccole informazioni e non abbastanza neutre né assurde né troppo basse per quanto riguarda questo reveal sono abbastanza in hype e spero di vedere veramente tante cose e tanti dettagli o le poche cose che possa vedere mi mettano un hype ancora più grande e possano convincermi che l'attesa che c'è stata in questi giorni molto molto pesante sia stata giusta e ne sia valsa la pena voglio sapere come sempre invece le vostre opinioni riguardo questi ultimi giorni di attesa quest'ultima giornata diciamo di teaser e questi ultimi due giorni fino ad arrivare al reveal che sarà alle 19 molto probabilmente uscirà un filmato che andrò ad analizzare come al solito frame per frame pixel per pixel lo farà anche il resto della community mi piace farlo anche personalmente perché magari vedo cose un pochino particolari o che non tutti notano o anche soltanto che se io noto qualcosa leggermente in ritardo è bello farlo a proprio passo il video quindi si conclude qui spero come sempre che vi sia piaciuto trovate tutte quante le informazioni, i teaser e tutti i siti interessanti qui sotto in descrizione trovate anche i link per i miei social che vi invito a seguire tra cui Instagram, Twitch e Discord vi invito a scrivermi anche qua su YouTube noi ci vediamo come sempre a un prossimo video un abbraccio ala